ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò del quinto episodio di fallout la nuova serie tv disponibile su prime video e tratta dalla fortunata serie di videogiochi targati bethesda prima di cominciare però vi faccio la solita raccomandazione a iscrivervi al canale a mettere qualche like così da aiutarmi a crescere e offrire sempre nuovi interessanti contenuti allora anche in questo quinto episodio le vicende della giovane lusi proseguono impegnata nella ricerca del padre rapito in un mondo molto diverso da quello che da quello che lei come tutti gli altri abitanti devolta avevano immaginato nello stesso tempo però assistiamo anche allo svolgersi delle vicende di maximus lo scudiero diventato cavaliere e soprattutto a quelle degli altri abitanti del volt 33 alle prese con la risoluzione di un mistero che puntata dopo puntata si fa sempre più fitto e intrigante anche superata la metà degli episodi che in totale ricordo sono 8 la sensazione continua a essere quella di trovarsi di fronte a una serie tv praticamente perfetta in cui azione comicità horror e suspense continuano ad accavellarsi senza soluzione di continuità anche in questo quinto episodio infatti i personaggi si raccontano e cominciano soprattutto a farsi le prime domande soprattutto riguardo agli oltre 200 giorni 200 anni trascorsi dalle esplosioni atomiche e dalla fine del mondo cosa sarà successo in quei terribili giorni come hanno vissuto i pochi sopravvissuti all'apocalisse ma soprattutto la missione degli abitanti devolta ha mai davvero avuto un senso e questo soprattutto il principale interrogativo che tormenta comincia a tormentare lusi che anche alla luce dei nuovi accadimenti vede le proprie responsabilità farsi pesanti e dunque portare tale fardello comincia a essere molto difficile sia per lei sia per maximus soprattutto tenuto conto della loro giovane età e dalla e della vastità degli scenari in cui sono costretti a muoversi talmente ricchi di pericoli e di insidie che i due saranno alla fine costretti a collaborare nel tentativo di portare a termine quella che la propria missione e che tra l'altro spesso spesso va a collimare lungo il loro cammino però i due dovranno affrontare i nemici di ogni generi sia umani sia di altro tipo tra cui i cosiddetti golferali che proprio nel quinto episodio fanno il loro esordio e che sono delle creature che hanno perso ogni sembianza umana e che si comportano come veri mostri assetati di sangue e carne se fino al quarto episodio i nemici erano stati abbastanza diciamo abbordabili per i nostri eroi con i golferali si effettua un deciso passo in avanti presentando quella che è una minaccia molto simile agli zombie veloci e scattanti che abbiamo visto in tanti film e che servono soprattutto a sottolineare se ancora ce ne fosse bisogno quanto sia elevata la difficoltà del viaggio che che i due hanno hanno intrapreso luna lasciando il volt è quella che era stata una vita tra virgolette protetta quasi sotto la classica campana di vetro e dall'altro lato per per maximus quella che era stata una vita caratterizzata dalla dalle regole e dalla disciplina della confraternità d'acciaio anche in questo in questo quinto episodio lo straordinario equilibrio tra azione e riflessione è sintomo di di come questa serie sia stata costruita con molta intelligenza e consapevolezza e sia soprattutto in grado di rispettare l'ispirazione originaria e di offrire nello stesso tempo un prodotto originale e innovativo in grado di tenere incollate allo schermo e di divertire spaventare nello stesso tempo e questo infatti il pregio principale di fallout ovvero la sua capacità di intrattenere suscitando emozioni sempre diverse sia grazie appunto allo spessore dei personaggi sia alle vicende e ai vari scenari molto suggestivi e affascinanti in cui è ambientata la vicenda anche per oggi è tutto vi do appuntamento alla video recensione del sesto episodio tra qualche giorno e vi auguro una buona giornata alla prossima